Tanti auguri a me, tanti auguri a me, la 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 Raga, è 2 maggio, invecchio, ma festeggio bene con un tortino qui a Perla Resort Mancano 17 giorni ai campionati italiani di poker, quest'anno mi metterò invecchia Cioè, verrà campionati con un anno in più, anche a Yard, cioè nessuno invecchia, solo io praticamente Giustamente, no? Di anno in anno, giustamente Va bene, raga, vado a mangiare la mia tortina E ci vediamo qui!